Buongiorno, questo è un video di storia che sto recuperando in questo periodo intanto che sarò assente un po' delle domande che mi avete fatto anche se alcuni di questi video sono abbastanza complicati ad esempio avviso già che ho quasi preparato quelli perché non riuscirò a fare non solo quelli sui anni di Pionbo in Italia e ribadisco una cosa, io non voglio fare video scolastici o esagerare nella narrativa il mio obiettivo non è esattamente quello, il mio obiettivo è portarvi ad essere curiosi cioè ad andare a cercare voi le fonti, a verificarle, a leggerle queste fonti e a farvi anche delle vostre idee e assumere da parte delle vostre informazioni perché la curiosità nel campo della conoscenza è determinante quindi ci sono ottimi, bellissimi video che arrivano alla descrizione con le slide, con tutto quanto ma hanno un altro tipo di obiettivo, cioè quello di darvi tutto io vi voglio dare più che altro l'idea per poi spingervi a guardare per poi spingervi a informarvi, a cui osare a cercare che dovrebbe essere un obiettivo fondante nell'insegnamento stimolare la voglia di cercare, la voglia di conoscere anche da sé altrimenti ci si limita letteralmente al compitino se si assumono solo le conoscenze dell'altro e non le si mette mai in discussione non si evolve, l'umanità non si evolve ma che si è voluta proprio per qualcuno ha avuto la curiosità di andare oltre partendo da questo voglio parlarvi di quello che è considerato il più grande disastro di una forza coloniale contro una forza nativa cioè la battaglia di islamiana ecco, gli italiani non siano troppo contenti che essere controposti cioè Adua, ecco, non è che perché è considerato il peggior disastro? innanzitutto l'esercito coloniale italiano non era l'esercito coloniale inglese quello inglese era molto più organizzato, strutturato, preparato e generalmente aveva degli obiettivi molto ben specifici la campagna di Adua ecco, diciamo che è una cosa assolutamente evitabile ci sarà stato un motivo per cui gli inglesi non hanno mai occupato l'Etiopia ecco, diciamola così perché essendo una nazione prettamente predatoria in questo senso dove aveva esercitato il suo potere coloniale era quello sfruttamento dove non c'era da sfruttare e non c'andava però questa battaglia è anche un perfetto esempio di arroganza sottovalutazione, sottostima, anche razza verso un altro popolo, verso un'altra nazione perché qui bisogna entrare in un'ottica ben chiara a differenza di quanto pensava Lord Chainsbourg e forse anche il governo inglese con Benjamin di Israele che era il primo ministro e non era assolutamente a favore di questa campagna militare tanto che non mandò a rinforza all'inizio i rinforzi a Chainsbourg arrivano dopo dopo la battosta di Sadvana allora l'esercito fece pressione il governo che era caduto il governo che sostituì quello di Israele si sentì anche, diciamo così, punto sul vivo e allora cominciò a mandare i rinforzi e le risorse necessarie per una campagna seria ma lo stesso Lord Shefford sopravvaluto grandemente di Zulu era reduce da una campagna vittoriosa contro una rivolta di un'altra tribù se non ricordo maleano di Zoscia che però applicava una sorta di tattica a mordi e fuggi o di guerriglia applicata malissimo tra l'altro malissimo perché era rivolta alle forze organizzate degli inglesi cioè questi quando si schieravano in battaglia c'hai poco da fare a mordi e fuggi ti prendevi delle gran legnate e basta ribadisco, l'esercito colonna inglese è estremamente organizzato e preparato non sottovalutiamolo non diciamo, beh ma aveva dei grossi problemi ma non erano tanto l'organizzazione e l'addestramento quanto proprio problemi anche interni al rapporto con le truppe native di questo ne parliamo tra poco Lord Shefford proietta questa idea verso gli Zulu gli Zulu sono una nazione una nazione tra l'altro estremamente strutturata non si tratta di un gruppo di capi che seguono il re carismatico di turno come poteva essere quando Shaka iniziò a formare la nazione Zulu no, c'è un re c'erano i suoi generali se Zvaio non andrà a combattere a Island Banach andrà i suoi generali c'era una struttura militare organizzata tra l'altro anche per merito proprio del re Zvaio che aveva, io adesso devo utilizzare termini moderni per descrivere le cose per aiutarvi a capire aveva strutturato l'esercito Zulu in divisioni non in semplici gruppi a masso di truppe che vanno all'assalto così il guerriero Zulu era estremamente addestrato cioè la velocità di marcia dell'esercito Zulu era più alta di quella dell'esercito colonial inglese oltre al fatto che conoscevano benissimo il loro territorio e l'applicazione della loro tattica principale cioè quella della testa del bisonte con due corna formate dai guerrieri più giovani, più dinamici la fronte formata dai guerrieri veterani e una riserva mobile che avrebbe dovuto sfruttare lo sfondamento generato appunto dal colpo delle due corne della fronte ragazzi pensateci un attimo e fate due rinnovamenti forze mobili che vanno all'attacco per sfondare la linea avversaria la forza principale che dà l'impatto e rompe la linea la riserva mobile che penetra, allarga e sfrutta lo sfondamento non mi ricorda niente con tutte le dovute proporzioni con tutte le dovute valutazioni è uno dei principi del Blitzkrieg ovvio che poi mancava la visione strategica del Blitzkrieg perché si vede un attimo dopo la vittoria di Zonvana che l'esercito Zulu ripiega non perché ha perso, anzi ha stravinto però non vi convince e non riesce a valutare l'importanza di distruggere Roth Drift per costringere Lord Shantman a un ripiegamento assolutamente veloce senza una base di rifornimenti fino lì non ci arrivano ecco non facciamo poi quelli che questi qui erano arrivati prima di Guderian no però l'idea, il principio di fondo è estremamente moderna ho detto il guerriero Zulu tra l'altro non è vero che non avesse elementi di riconoscimento lo scudo il colore degli scudi non erano colori casuali e neanche il numero di cuciture, di lacce, di fregi perché indicavano il livello di addestramento indicavano quelli che erano veterani e quelli che non erano veterani ma erano diciamo così reclute o meglio guerrieri più giovani che avevano visto poche battaglie o nessuna anche questo era un modo per identificare i guerrieri Zulu e anche qui non è che gli Zulu fossero andati in battaglia armati solo di Zagaglia cioè la lancia corta che di fatto fungeva come il gladio romano per dare un'idea ecco di come veniva utilizzata e non aveva lo stesso scopo Mazza e Giavellotto avevano anche i fucili e li vendevano i mercanti d'armi poi dopo Islandana ebbero anche un bel po' perché presero tutti quelli del campo distrutto però era un esercito organizzato e preparato che aveva le sue vedette al confine e parliamo di una forza di circa 30.000 guerrieri l'impi complessivo era su circa 30.000 guerrieri che non erano tutti stanziati all'undicio nella capitale ma che potevano raggiungerla e riunirsi velocemente proprio perché anche la stessa struttura delle posizioni dei capi dei capi Zulu consentiva questo tipo di manovra l'esercito inglese che entra ha di circa 4.000 uomini cioè la superiorità delle Zule di 7 a 1 non va in battaglia con questa differenza a prescindere da che ti trovi di fronte è vero i romani a Budica gli fecero il mazzo sì ma veramente non c'era da paragonare l'addestramento inesistente degli ceni contro i romani rispetto a quello degli Zulu contro gli inglesi perché ribadisco era un esercito estremamente strutturato con idee chiare su come si affrontava la battaglia cioè se ho preso l'esempio della distruzione degli ceni c'è un motivo gli ceni andavano dentro contro una legione romana schierata a formazione praticamente si lanciavano loro contro gli scudi romani con gente che aveva magari dieci anni di campagna militare sai che paure gli faceva un tizio colorato di blu che agitava la mazza gli faceva né caldo né freddo qui soprattutto le forze native non è che fossero entusiasti ad andare a fare a botte con gli Zulu e anche qui nei 4000 c'erano diversi reparti nativi non Zulu di altre tribù che già andiamo a fare a botte con gli Zulu un po' di mal di pancia poi erano equipaggiati malissimo erano addestrati poco ed erano equipaggiati male per scelta dell'esercito inglese a parte che non li avevano sotto ufficiali gli ufficiali erano tutti inglesi si sa mai ma erano equipaggiati veramente male mediamente c'era un fucile ogni dieci guerrieri e spesso quel fucile non era Martini e Henry standard delle truppe coloniali era un catorcio ad avancarica che se già uno addestrato ha le sue rogne figuriamoci un soldato non addestrato che gli mette in mano un fucile ad avancarica e pretende che si metta lì facciamo ridere i polli e poi ci fu anche un trattamento da parte proprio degli inglesi verso queste truppe che fu abbastanza vergognoso essere gentili c'erano dei reparti informati il colonnello Banford aveva un reparto di cavalleria nativa addestrato e preparato bene sì ma era un reparto di cavalleria lui tra l'altro ebbe la giustissima idea nel momento in cui la battaglia stava andando a Ramengo di liquidare dicendo andate via andate via nel film si vede andare via soltanto il suo vice nella realtà sembra che allontanò praticamente tutto il reparto rimasto quelli che erano rimasti ancora vivi gli ordinò di andare via di darsi la fuga perché tanto lui non c'era più niente da fare però quello era cioè il resto della truppa nativa veniva considerato o come portatori o come candela cannone ecco quindi già quella parte non la puoi considerare truppa di prima linea e quindi si riduce poi vi ho letto Censvon non aveva ricevuto i fornimenti della madre patria ed era entrato lui in territorio Zulu perché gli Zulu di fare la guerra non ne fregava niente e anche qui mancanza di conoscenza della cultura che hai di fronte se avesse attaccato più tardi nel periodo in cui iniziava il periodo del raccolto in cui i guerrieri Zulu dovevano essere per forza mandati a fare il raccolto cioè impegnati nella coltivazione ce ne sarebbero stati meno disponibili perché gli Zulu colpiranno così duramente proprio perché potersi garantire poi il tempo per il raccolto per mandare i propri guerrieri nei vari insediamenti a fare quello che era necessario per mantenere per far sì che la popolazione non morisse di fame cioè a farne il raccolto già questo da farvi capire quanto lo stato Zulu fosse uno stato e non un gruppo di vabbè siamo qua e facciamo colore lo senso entra in pieno stile arrivo io che arrivo io io so io voi non siete un ecco utilizzando una formazione a tre colonne due poi si fondono anche perché era abbastanza ridicolo una terza viene sostanzialmente ridotta perché una parte di queste forze vengono mandate a fare da guanjone rock drift rock drift è una vecchia missione trasformata in ospedale e magazzino la battaglia rock drift fu una battaglia particolare perché le forze Zulu che attaccherono non erano così tante erano pochi migliaia di guerrieri il comandante il comandante l'ufficiale più anziano perché tecnicamente il chart quello che guidò la difesa era un ufficiale del genio guidò benissimo la difesa soprattutto c'erano formazioni perdono c'erano strutture murarie cioè c'erano protezioni dietro cui ci si poteva riparare non era una battaglia in campo aperto al campo aperto sarebbero stati travolti nel film anche qui abbiamo fatto un film che è precedente a Zulu Down che si titola solo Zulu c'è un giovanissimo Michael Keane tra l'altro non mi ricordo il nome dell'attore che fa la parte di Ciarda che a fronte dei consigli del giornal che dice no non andiamo in campo aperto ma per fortuna se si fossero mossi in campo aperto sarebbero spazzati via con niente perché non avevano proprio nessun tipo di protezione anzi un muro difensivo è un muro difensivo se c'è sono delle protezioni in muratura in legno è una cosa ben diversa da affrontare di Zulu in campo aperto come accade invece di Zandvana quando Don Setmo fa mettere il campo si discute se si devono essere ripiazzate delle fortificazioni si decide che non è necessario anche perché la ricognizione della cavalleria inglese non vedeva forze Zulu vicine e perché il terreno era duro il terreno in questione era un ricordo potroppo ricco di forri avvallamenti che potevano proteggere dal fuoco dei fucilieri tanto per dire che la posizione era scelta veramente male ed era tremendamente aggirabile quello che succederà effettivamente nella battaglia di fatto quindi gli inglesi si schierano in campo aperto in campo aperto contro una massa d'urto che per quanto potesse non stiamo parlando di mitragliatrici cioè qui non c'erano mitragliatrici cannoni a tiro rapido e fucili che non avevano bisogno di essere caricati ogni volta un artiniere andava caricato non era un mondragon messicano che uscirà negli anni 20 che era un fucile di ripetizione andava caricato ogni volta quindi la velocità era quella che era se magari avessero avuto come buff una batteria di Spencer ed Henry e sparavi 16 colpi alla volta come deve ricaricare il volume di fuoco è ben diverso e qui poi siamo proprio in campo aperto dopo questa botta di genio non c'erano aveva già colpito un campo un insediamento di un capo zulu adesso si preparava a colpire in un secondo e poi a dirigersi verso Ulundi io ce l'avevo voluto vedere andare ad Ulundi contro 30.000 guerrieri comunque bisogna essere furbi come delle faline lascia una forte guarnigione al campo di Islambana e poi si mette in movimento compiendo quella che sostanzialmente è una ricognizione in forze avvisando poi tra l'altro il colonel Polin quando sarebbe stato necessario di smontare tutto e raggiungerlo di fatto separa le sue forze in due parti senza avere però alcuna idea di dove sono esattamente gli Zulu se non da qualche notizia recuperata da mercanti boeri così che erano diciamo così non è che fossero al massimo dell'attendibilità erano notizie un po' confuse la cavalleria inglese che lascia l'islandana per un'ennesima ricognizione va a sbattere contro il grosso Zulu cioè contro l'intero Impi tranne le forze che stavano andando che era intorno a un fiume che oltretutto aspettava lì perché quello non era il giorno propizio per la battaglia per motivi religiosi aspettava lì la cavalleria inglese leggera arriva li vede i giovani capi Zulu cioè i comandanti dei corni li vedono si ingrifano mi sembra anche logico e li corrono dietro faccio notare a che velocità ci mettono gli Zulu ad arrivare al campo rispetto a quando ci arriva la cavalleria a che velocità si potevano muovere rispetto all'esercito inglese la cavalleria inglese tira due colpi per far vedere che è arrivata poi si dà giustamente se no li avrebbero pettinati arriva al campo avviso della presenza degli Zulu qualcuno dice mandate una staffetta l'ha rincoglionito cioè di ritornare indietro e lì peccato che se fossero tornati indietro la volevo vedere la scena 25.000 Zulu contro 4.000 inglesi cioè gli camminavano su ma intanto si preparano il combattimento il fatto sono poche compagnie di fucilieri le truppe native poca artiglieria la batteria di razzi assolutamente utile e le truppe di cavalleria ma non ci sono protezioni anzi questa cosa sarà talmente particolare che quando si senti nel senso si tira i colpi utilizzerà un telescopio per guardare verso di Zonvana però vedrà che le tende sono ancora a posto e beh allora se le tende sono a posto vuol dire che le cose non vanno così male non sono a posto perché gli Zulu stanno pettinando tutto il resto no? perché sono perché anche qua nel film non si riesce a vedere bene ma il dato di fatto è che gli Zulu attaccano e prendono subito quella formazione la parte centrale spinge proprio verso le compagnie mentre le due ali i due corni aggirano la posizione attaccando da una parte le unità di cavalleria che si erano disposte a formazione sparsa per copertura di fuoco e dall'altra le unità di fanteria messe sparse anche quelle per formazione di copertura fuoco utilizzando quelle forre e quei valloni che di fatto nascondevano i loro movimenti quello che si vede nel film la carica quella è la carica della fronte del bisonte le ali si vedono dopo come si convoca ovvio nel film non ti viene fatta la descrizione ma quelle che investono la cavalleria e le unità di fucileria posizionate sparse posizionate in formazione libera sono i lati cioè i corni che stanno già avvolgendo le posizioni di Zandvana una volta distrutte quelle formazioni che avevano come scopo solo la copertura le corna si sarebbero chiuse sigillando di Zandvana e nel momento in cui poi c'è il crollo delle due formazioni delle compagnie di fucilieri insieme a quelle entra la riserva mobile investendo completamente il campo nel film c'è una scenetta che purtroppo per quei poverazzi che c'erano è abbastanza realistica quella dei razzi cioè viene piazzata la batteria con questi due razzetti vengono lanciati i razzetti tempo che hanno lanciato i razzetti gli uzzurri sono addosso tutta la batteria razzi fumata via in due secondi dimostrazione di quanto fossero utili queste armi l'esercito azzurro colpisce utilizzando proprio la sua tattica distruggendo completamente le difese inglesi che non erano neanche apportate non c'erano muretti non c'erano protezioni non c'era niente gli inglesi che stavano combattendo in campo aperto ecco c'è da dire una cosa perché poi sembrano dei picchi così i soldati inglesi si comportarono in maniera impeccabile mantenero la formazione finché era possibile pur ritrovandosi dopo un po' cioè per il teoretmo di fucileria quello che era il numero di guerrieri era enorme dopo un po' te li trovi addosso lì le file si spaccano quando ti trovi 4-5 Zulu a mezzo metro e hai spai un colpo di fucile agli AT4 ti disfano però mantenero il più possibile la formazione l'artiglieria la continuarono a spostare anche in modo abbastanza assurdo per una volta che tra l'altro l'artiglieria è ipotrainata da cavalleria con i cannoni non propriamente pesantissimi continuare a spostarla la rendeva poco efficace perché andava poi rimessa in batteria a fare fuoco ogni volta che la spostavi perdevi del tempo e qui vengono fuori degli altri periodi invece che sono estremamente negativi uno i furieri che invece di preparare subito le scorte di munizioni aprendo le casse stavano a fare i pignoli cioè si sono a mettere in fila questa è una cosa che si vede anche nel film che è imbarazzante che caprone che fa il furiere che sgrida uno che arriva dalla prima linea e dice non abbiamo più munizioni mettiti in fila e abbiamo gli zuno a mezzo metro mettiti in fila tu hai un cervello delle dimensioni di una noce che funziona pure male nel film si esagera ma effettivamente i furieri lavoravano così e anche questo è un episodio reale che viene messo nel film non davano le munizioni alle truppe native le munizioni erano soltanto per le truppe inglesi le truppe native quando finivano i colpi si dovevano arrangiare io mettetevi nei panni di questa povera gente che già deve combattere dei guerrieri che sono molto più addestrati incacchiati neri perché è stato l'esercito inglese a invadere non il contrario che per giunta li tratti non come guerrieri e come soldati tuoi pari ma come sacchetto dell'umido che sta lì o quello che si dita in limita carne da cannone sta avanti ti fa ammazzare così non ammazzano immaginatevi che voglia avessero di combattere la battaglia in sostanza non è lunghissima gli Zulu arrivano velocemente all'impatto con la linea inglese e che si dispa ovviamente vengono quattro gatti le due ali ci mettono poco a travolgere sia la cavalleria che la fanteria messa in formazione sparsa perché sono troppo pochi cioè se si parla di gruppi di 10-15 soldati mentre attorno te ne arrivano 2000 fai due scariche e poi cerchi di ripiegare ma gli avversari ce li hai già addosso dentro il crimine viene completamente disfatto e lì poi c'è la questione della bandiera perché alcuni dicono che gli Zulu hanno preso la bandiera regimentale e se la sono portata dietro altri dicono nel film c'è la scena che non so fino a che punto sia attendibile di uno degli ufficiali un bravo tiratore che colpisce lo Zulu che se la sta portando via e la bandiera finisce nel fiume ma altri dicono che la bandiera ha riporto l'undi invece è vero che i due soldati che dovevano portarla al di là del fiume per salvarla vennero attaccati dagli Zulu che avevano attraversato a nuoto il fiume e pettinati e ricevettero la victory cross dalla memoria come altri ufficiali presenti nella battaglia il cornello Manfo si sacrificherà con un gruppo di volontari per consentire alla sua cavalleria nativa di fuggire che non li hanno pettinati tutti mi sembra che in totale siano stati circa 100 sopravvissuti 60 coloniali e 40 nativi o 60 nativi e 40 coloniali su questo non sono sicuro qualcuno che aveva i cavalli si è dato appena visto ma non ha aspettato che si chiudessero le corna appena visto che comunque dalle forze arrivava di tutto ho detto aspetta un attimo che ho un appuntamento a casa devo tornare a Johannesburg ma è un po' lontano ma fa niente ci faccio lo stesso su un giro però fu un disastro un disastro spaventoso cioè parliamo di circa 1800 perdite per gli inglesi le perdite Zulu complessivamente fra caduti e feriti si aggira e qui grazie la stima è molto approssimativa dovrebbero essere sui 3000 dopo le perdite Zulu visto che non c'era un sistema sanitario chirurgico i feriti finivano spesso nelle perdite nei caduti però diciamo che gli inglesi hanno fatto quello che dovevano siamo quasi sul piano dell'1,5 a 1 in termini di perdite se uno rompia fare il matematico da fogna perché uno che fa sti ragionamenti e li ho sentiti fare è un po' un matematico da fogna però di fatto l'offensiva cioè non l'è finita metà del tuo esercito è distrutto le tue truppe native visto come ti sei comportato hanno una voglia di combattere gli Zulu che metà basta e poi quando raggiunge il campo di Zandvana lo avvisano che anche Arrow Drift sta volando di tutto infatti l'ordine riorganizziamoci te li amo gli Zulu facevano anche abbastanza qualche pastrocchio e cadaveri non voglio uso la parola pastrocchio immaginatevi un po' un po' per rabbia un po' probabilmente volevano anche verificare che non ci fosse qualcuno sopravvissuto un po' per tradizioni ragazzi anche anche il Issyou fecero un po' di macelli ai caduti a Little Big Ron lui parte con l'idea di trovare Rodri spianata arriva Rodri ancora in piedi quindi in magazzino è ancora salvo salvo era bruciato vabbè si ferma un attimo poi torniamo oltre il fiume Baffalo che qui sono cavoli amari perché siamo quattro gatti arriva il rapporto cade il governo inglese il governo nuovo ah si si bisogna mandare gente perché hanno violato la nostra bandiera ma fatti un giro in discoteca che non ti conviene così ti balla anche un po' il cervello perché bastava non andare a fare quella guerra perché gli Issyou non avevano interesse a fare una guerra non volevano entrare in territorio occupato dagli inglesi non gli ne fregava niente avevano il loro stato da gestire se proprio volevano allargarsi c'erano altri territori non controllati dagli inglesi su cui potevano mettere gli occhi non non andavano loro non avrebbero avuto interesse hanno condotto una guerra difensiva poi la perderanno sì ma perché gli inglesi ci butteranno dentro risorse su risorse mezzi soldati tutto quello che volete ma di fatto arriveranno questi dopo una batosta difficilmente misurabile batosta che si poteva tranquillamente evitare perché siamo sempre qua poi si piangono gli eroi io non piango gli eroi io piango i poveri soldati mandati al macello da un tizio che aveva un ego stile Zeppeli che non rispettava il nemico per quello vi dico sempre ve lo dico sempre in termini politici non prendete mai sotto gambe i vostri avversari perché non si sa mai cosa possono combinare perché potrebbero avere delle carte nascoste prende sotto gambe il nemico oltretutto mantiene un atteggiamento che era tipico dell'esercito inglese del tempo cioè la rivolta dei sepoi in india non è generata tanto perché si erano stufati da avere un ufficiale inglese no per la mancanza uno degli elementi non l'unico ma uno degli elementi scatenati fu la mancanza di rispetto delle tradizioni religiose in due musulmane cosa che fece esplode perché volevo dire non considerarle quelle persone e anche qua le truppe native non venivano considerate venivano considerati veramente li mettiamo lì poi il nemico pela loro e non pela noi ma che atteggiamento umano è nel film c'è una scena che è abbastanza disgustosa cioè il fogliere che va a togliere la bandoliera delle munizioni non dico i poveretti che è affogato nel fiume Baffalo portando delle casse che avrebbero potuto essere portate mettendole sui carri e tratta quel poveraccio come se fosse un sacco vi cito le scene del film perché non è tanto la contestualizzazione la contestualizzazione realistica ma l'idea che c'è dietro perché in questo senso il film è molto critico verso l'atteggiamento degli inglesi anche se è stato fatto in Inghilterra è stato fatto oltretutto con l'aiuto l'ausilio della nazione Zulu cioè c'è proprio nei crediti finali ringraziamento al popolo Zulu sono a pranzo Ron Censford la corte dei pagliacci cioè gli altri ufficiali che si badroni si bravissimo genio militare al tuo confronto Giulio Cesare Napipa Alessandro Magno Noscartino ecco più o meno l'atteggiamento è quello ce n'è uno solo nel film che è un giornalista tra l'altro che dice a uno di questi geni militari ma non mi sembra una buona tattica dividere l'esercito quando non si conosce la posizione dell'avversario la risposta del genio militare eh sì ma non parliamo di eserciti moderni parliamo di un esercito di selvaggi eserciti selvaggi che poche ore dopo gli pettinerà completamente metà dell'esercito uno degli ufficiali di cavalleria dice io vorrei raggiungere Zasbana anche perché i miei uomini la sua classica frase non ha appetito e i miei uomini non mangiano a due giorni vorrei raggiungere e non andare a vedere come vanno le cose era uno di quelli che cadranno nella battaglia e il suo secondo lo segue il secondo invece è quello che andrà ad avvisare l'osercito guardate che là ci stanno facendo un mazzo tanto e alla velocità con cui vi muovete voi ci arrivate dopo domani e l'osercito ha subito una bella battuta è un irlandese non ricordo se dice un irlandese o un gallese comunque poi chiedetevi perché gli inglesi stanno sul car a tutta Europa ecco chiedetevelo co e tutti col modo di applaudire di quel tempo cioè battendo i puni sul tavolo un modo abbastanza idiota si trova nella cosa esilarante mentre fa questa battuta arriva uno a visarlo è una volta che a Iswandana c'è qualcosa che non va e lui chiede uno di questi ma il telescopio ecco ovviamente questa è una drammatizzazione della cosa effettivamente utilizzava un binocolo per vedere e di sé ma le tende sono a posto sì ma agli zoom non gliene fregava mica tanto delle tende gli interessava quelli che ci stavano nelle tende e quelli non erano a posto comunque è un perfetto esempio dell'arroganza dei colonialisti ed è un'ottima lezione perché ragazzi uno si ricorda di questo non si ricorda ad esempio della caduta di Cartoon sempre roba inglese c'è anche un film con un certo onesto mi sembra delle pestate che hanno preso l'inglese nella zona delle Kiberpass le guerre afghane non voglio citare Little Bigor perché penso che sia anche abbastanza facile citarla non vorrei ricordare i francesi di Mbappu sai quali non hanno i carri ma combattono con le biciclette sì hanno combattuto così male con le biciclette non avevi fatto un mazzo tanto perché queste sconfitte perché c'è un atteggiamento noi siamo noi e voi non siete un cazzo ecco mettiamola così se ci fosse stato invece nel proprio gruppo dei minchioni qualcuno un po' incazzoso un a caso uno dei miei fratelli quando Sordi dice quella battuta si trovava una lama a fargli un sorriso nuovo sotto la gola era un selvaggio sì si comportava da selvaggio ma non è vero che uno che corre a piedi nudi sia ignorante perché questa è la più grande lezione per Champsport siccome non avevano gli stivali erano ignoranti se sbaglio non era ignorante e questa battuta viene viene citata non è una battuta in un film ma questa considerazione viene fatta anche da da un personaggio nel film di Ridley Scott Blackwood Down il mercante d'armi che arrestano così quando Garrison gli fa il pipotto lei gli dice non pensi che io sia un sempliciotto solo perché sono vissuto senza acqua corrente ecco bisognerebbe sempre ricordarselo rispetta gli altri come se fosse come rispetti te stesso questo è secondo me la lezione più importante di Sandana perché da una parte c'è stato qualcuno che ti ha considerato tuo pare e ha preso una gamba di lada vi saluto ragazzi ci vediamo